Parla Signore, parlaci ancora 18 febbraio Quando riverserai all'esterno amore e comprensione tutto ti sarà reso centubbligato Anche quando riverserai critiche e negatività esse ti saranno rese centubbligate Ciò che è racchiuso nel profondo di te si rifletterà nella tua vita esteriore Non puoi celare insoddisfazione, dispiacere o infelizia poche prima o poi, tutto ciò irromperà all'esterno come un ascenso che sarà necessario incidere Tanto più rapidamente il veleno verrà eliminato e meglio sarà Il modo migliore e più rapido è quello di cambiare l'intero tuo atteggiamento Sostituisci i pensieri venenosi, negativi, critici con pensieri del più pur amore di armonia e comprensione È possibile farlo molto in fretta Non devi coggiolarti nell'infelicità e nella depressione Non devi sprecare del tempo prezioso a compiangerti Quando vuoi cambiare la tua situazione puoi farlo immediatamente Il cambiamento può avvenire in un batter d'occhio Il cambiamento può avvenire in un batter d'occhio Il cambiamento può avvenire in un batter d'occhio